Quello che è successo a Barcellona ci riporta tristemente a quello che è successo, come ricordano i giornali, più di otto volte nell'ultimo anno, anno e mezzo, cioè è successo con una frequenza purtroppo incredibile, cioè degli attentati che sono fatti nei luoghi nostri più normali, cioè quelli dove si cammina, quelli della vita, quella della normalità occidentale. Qualche cretino pensa che il problema siano i furgoni e la difficoltà maggiore che si dovrebbe avere, cioè più burocrazia per affittarli, allora potremo anche evitare, se continuiamo così, di permettere ai cittadini di assemblarsi nelle vie principali delle città o potremo evitare, che ne so, di andare a piedi, insomma sono tutte stupidaggini ovviamente, il tema fondamentale è che non sono i furgoni ad ammazzare le persone ma sono i fondamentalisti islamici che le ammazzano, diciamo che è una questione un pochino diversa. Nell'attentato quello che si sa ora è un po' di più rispetto a quello che si sa sui giornali ma poco di più perché in realtà quello che viene aggiornato è soltanto il numero delle vittime che sarebbero 14, anche se essendo i feriti più di 100 evidentemente il rischio è che salgano ancora molte. Di queste due sono vittime italiane e che sempre ci riporta alla globalizzazione di questa carneficina che viene fatta in Europa. A differenza molti con il senno diciamo un po' freddo dicono beh in realtà poi di terrorismo si muore in Europa ma poi non così tanto, i numeri sono ancora bassi. In effetti rispetto a circa le 200 persone che morirono proprio in Spagna quando vi ricorderete vennero messe le bombe di Atocha nella grande, nei quattro treni, insomma i numeri sono drasticamente diminuiti. Ma quello che fanno queste bombe e queste bombe umane, queste bombe teleguidate sono un'altra cosa, sono continui stupri alla nostra cultura occidentale, continui, che possono riguardare 10 vittime, 12 vittime, 14 vittime, cioè il peso di questa violenza è superiore anche a quanto siano le gravissime perdite umane che ci sono. Vedete la dinamica è stata incredibile, entra in questa strada un furgone e fa 500 o 30 metri indisturbato, a zig zag uccidendo le persone che sono in questa strada, soltanto una furia religiosa, una furia religiosa intesa come quella che potevamo pensare, non so, durante il Medioevo, durante i periodi più bui del nostro fondamentalismo religioso, può pensare che un uomo sia guidato da quale follia nell'uccidere le persone sorridendo, come qualcuno hanno detto. E questo per quanto riguarda la cronaca, non si sa bene chi sia stato, pare che l'omicida, l'assassino sia sfuggito, non mi sembra che la polizia spagnola abbia ancora dato degli elementi chiari per capire chi sia stato, così come non è chiaro cosa sia successo in un altro attentato che sembrava coordinato a poche ore di distanza, sventato fortunatamente in Spagna. Il punto è un altro però sulla quale vi voglio far riflettere e non lo faccio il giorno stesso in cui si dovrebbero piangere i morti e sicuramente oggi li piangeremo, anzi sono già iniziate quelle patetiche catene di solidarietà su Facebook che sono rappresentate dalla frasetta spagnola, dai fiori, dai gessetti, dal ventaglio, da quei simboli sui quali l'Occidente è fenomeno, fenomenale, cioè questi ci ammazzano, questi signori ci ammazzano in nome di un fondamentalismo islamico pazzo e folle e noi facciamo i fiori, noi insegniamo ai nostri figli che una volta che ci hanno ammazzato noi dobbiamo portare i fiori sulle tombe, ecco non siamo in quella situazione, io non sono un guerrafondaio e non so neanche bene a dispetto di tanti altri che cosa si dovrebbe fare domani, ma quello che so è quello che non si dovrebbe fare oggi, cioè se uno prende sorridendo e uccide 80, 10, 5 famiglie, distrugge, fa quello che ha fatto ieri con quel sorriso, ecco io voglio che si vedano non i fiori, ma si vedano le immagini di quello che è la devastazione che ha portato alla Rambla ieri sera questo pazzo, si vedano i feriti, i morti, si vedano le rotelle dei passeggini che sono stati distrutti senza nessuna pietà e noi che cosa insegniamo ai nostri figli? Insegniamo i fiori? Insegniamo il bacetto? Insegniamo la preghierina? Ci vuole anche quello, ma forse prima di quello bisogna cercare di capire che a questi signori gli si spara qua, un colpo qua, qua, quel signore che stava ieri col furgone bianco mentre stava cercando di uccidere le persone, un poliziotto gli avrebbe dovuto sparare un colpo qua, preventivamente, perché quello sta uccidendo noi, ci si difende, non si mette il fiore dopo che si è ammazzati, questo vale per uno fondamentalismo islamico, vale per un fondamentalismo cristiano, vale per chiunque, ma chi cerca di ammazzare degli innocenti in una strada pubblica gli si impedisce di farlo, punto, non gli si mette un fiore dopo che lo ha fatto, prima questione. Seconda questione, Barcellona ci ha spiegato, ci ha fatto due palle così spiegandoci che grazie all'accoglienza avremmo vissuto tutti bene, quel sindaco donna, la sindaca, Boldrini di Barcellona ci ha spiegato quanto fosse importante l'accoglienza, siamo stati tutti appresso a questa accoglienza, ci hanno spiegato quanto fosse, a parte il fatto che gli spagnoli si occupassero della loro accoglienza a Ceuta invece che della nostra con l'ONG in Italia, ma il punto fondamentale su questa roba dell'accoglienza è che Barcellona e poi dopo Beppe Sala a Milano e poi tutti questi fenomeni dell'accoglienza ci hanno spiegato che grazie ai bacetti dell'accoglienza noi riusciamo a evitare il terrorismo. No, io non so se gli immigrati, cioè un'immigrazione incontrollata porti inevitabilmente con sé un rischio di terrorismo superiore, ma so due cose, che con l'accoglienza noi sicuramente non evitiamo gli attacchi terroristici, so per certo che Barcellona grazie alle sue minchiate delle marce dell'accoglienza e della pace non ha evitato quello che è successo ieri, non metto in relazione due cose, dico che è semplicemente un strumento inutile e che quindi l'accoglienza non serve minimamente a smaltire l'odio che ci hanno alcune persone nei confronti della nostra cultura, che ce l'hanno comunque, sapete a cosa serve l'accoglienza della sindaca di Barcellona e dei tanti nostri fenomeni? A pulire una coscienza che si ritiene sporca nostra nei confronti dell'Africa, nei confronti di un passato colonialista, nei confronti di presunte colpe che abbiamo nei loro confronti e per i quali noi dobbiamo emendarci, dobbiamo salvarli e dobbiamo farli venire a casa nostra, questo è il punto, quindi serve alla nostra cattiva coscienza che secondo me non dobbiamo avere e non nutre minimamente la difesa che noi dovremmo avere nei confronti del terrorismo, che viene fatta con le armi, non viene fatta con la sicurezza, con l'intelligence, con la sicurezza e con le armi, non attraverso le manifestazioni del sindaco di Barcellona. Questa critica è feroce nei loro confronti, è una critica perché non si può pensare di evitare di guardare in faccia alla realtà e perciò ci eravamo dimenticati, dice Osce Beppe Severnini sul Corriere della Sera, no, non ci eravamo dimenticati perché purtroppo non ci siamo dimenticati Parigi, non ci siamo dimenticati Nizza, non ci siamo dimenticati la Germania, non ci siamo dimenticati il prese sgozzato in una piccola parrocchia della provincia francese, non ci dimentichiamo e continueremo a non dimenticarcelo per i prossimi mesi, per i prossimi anni, ma di una cosa noi purtroppo ci dimentichiamo e che con i fiori e con i gessetti e con le manifestazioni di accoglienza nei confronti dell'immigrazione non risolviamo nulla, non è detto che l'immigrazione sia il terrorismo, anzi probabilmente molti degli immigrati vengono qua solo per far soldi, come dice benissimo il libro Migranti, Migranti, Migranti e non per mettere bombe, ma che nell'insicurezza derivante da province, da regioni, da quartieri completamente in mano a persone senza lavoro, senza prospettiva e senza la nostra cultura possa nascere qualche terrorista, questo non si esclude e sicuramente non lo risolviamo con le nostre manifestazioni buoniste delle mie scatole sulle rambla di tutto questo paese, è duro dire queste cose nel momento in cui c'è un attentato e su cui dovremmo piangere 14 morti di cui italiano, sì forse è duro, però è molto meglio dire le cose secondo me così che oggi non ho letto sui giornali che dirle e raccontarle con i gessetti e con le facce e con le bandiere spagnole sulle nostre pagine di Facebook che non servono a nulla, non servono assolutamente a nulla per evitare che nel futuro ci siano altre strade, altre via del corso, altre piazze Duomo, altre viale Manzoni, viale Corso Buenos Aires, altre zone in cui questi pazzi possano intervenire e uccidere i nostri figli. Ciao.